Con l'aumento indiscriminato delle utenze ci sono piatti e preparazioni che rischiano di scomparire dai ristoranti perché particolarmente energivore. Non sarà un addio definitivo alle lunghe cotture ma di sicuro nei prossimi mesi se la crisi energetica non dovesse rientrare ci sono piatti che sarà più difficile trovare nei ristoranti e sicuramente non lo stesso prezzo di qualche tempo fa. Beh sicuramente ha portato delle modifiche alla cucina importanti nel senso che oggi bisogna stare attento al consumo energetico considerato la situazione e chiaramente quello che prima veniva offerto in maniera importante, consigliato in maniera più gustativa per il cliente oggi si tende più a proporre un menù meno impegnativo, c'è un antipasto, i primi, tenendo un po' a distanza quello che è l'offerta di questi piatti tradizionali che richiedono ore e ore di cottura. Questa mattina addirittura parlavo anche con un fornaio che ha problemi a fare appunto la doppia cottura, no? La dove ci vuole un'ora, adesso con la doppia cottura ce ne vuole due per cui stava pensando anche di rinunciare alla doppia cottura. Questa situazione ci sta mettendo in questo stato di cose. La cucina di tradizione terramana nota per le sue lunghe cotture si trova a fare i conti con questa difficile condizione, che sta mettendo in ginocchio i locali storici abituati ad avere sempre i fornelli accesi. Aspettiamo gli eventi, certo stiamo vivendo un bruttissimo momento perché le bollette ormai straforano, non c'è più una regola nel senso che tutto può succedere. E' bene stare attenti, comunque le proposte non possono mancare per chi come me da anni e anni propone l'antica cucina terramana fatta appunto di ore di cottura. L'unica cosa, le attenzioni, quelle attenzioni che prima non si faceva caso, non c'erano ed era normale far cuocere un prodotto più di quattro ore, adesso diciamo si sta un po' più attenti, cambiamo un po' l'offerta ma sempre rimanendo con l'offerta di base. Non è solo il problema energetico che ha inciso fortemente sul nostro lavoro, ma sicuramente è in grado momento sconsiderato delle materie prime, per cui bisogna barcamenarsi, se prima si pensava di avere un certo utile, adesso lo si condivide col cliente, si tende ad andare avanti. Non è solo il problema, non è solo il problema. Grazie.